Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Elite Gaming, benvenuti su Destiny 2 in questo nuovissimo video news in cui come al solito vi riporto le ultime novità direttamente dall'universo di Destiny e questa settimana sarà un video molto flash perché c'è soltanto sostanzialmente una grossa novità interessante che quantomeno interesserà i giocatori console o i giocatori i PC che utilizzano il pad, ma ci arriviamo con calma. Partiamo innanzitutto col dire che Bungie abbia dato un altro assaggio della prossima Patch Notes, che entrerà in vigore martedì il 9 e che interesserà diversi aspetti come ad esempio l'economia di Eververse che si sposterà più in favore di giocatori e meno all'argento e qualche piccolo cambiamento riguardo ad alcune mod, ne parleremo direttamente martedì, è un trafiletto così breve che non voglio nemmeno perderci più di tanto tempo al momento. Prima di vedere però il punto interessante ci tengo a sottolineare una cosa, ovvero che Bungie in data 5 giugno non abbia ancora detto nulla sulla prossima stagione. A conti fatti non sappiamo di cosa parlerà, che attività ci saranno, non sappiamo nulla di nulla. Sappiamo soltanto che martedì 9 ci sarà una presentazione di Bungie sulla nuova espansione, quella che arriverà nell'autunno, il che suggerisce che la prossima stagione sia strettamente connessa alla prossima espansione e agli eventi che ancora mancano in questa qui. Perché vi ricordo che la narrazione della stagione dell'intrepido non sia ancora finita, manca il per così dire gran finale e immagino a questo punto che direttamente martedì potremmo aspettarci qualcosa in tal senso. Trovo abbastanza strano però che ancora non ne abbiano parlato, anche se tutto sommato lo posso capire considerando la situazione globale e nello specifico quella americana. Comunque ne sapremo di più martedì, vi avevo detto che lo avrei streamato sul mio canale ma è più probabile che mi troverete su quello di Eurogamer. Vi farò sapere sui miei canali social i cui link come al solito li trovate in descrizione. Parliamo adesso della grossa novità. Bungie ha confermato che introdurrà la possibilità di mappare completamente il controller. Questo vale anche per la console e questa nuova funzionalità verrà introdotta nella stagione del non si sa ancora il nome. Quindi è un po' difficile capire se intendono la stagione 11, quella che inizia martedì, o se intendono magari quella che inizierà settembre barra ottobre. Questo chiaramente lo scopriremo. La parte interessante però è che non è male la possibilità di poter mappare il controller e visto che come tutti sappiamo i tasti sono limitati, hanno pensato in maniera molto intelligente di poter anche cambiare la tipologia di azione con i diversi tasti e le diverse azioni. Per esempio una determinata azione possiamo decidere se effettuarla premendo semplicemente il tasto, tenendo premuto o premendo rapidamente due volte. E su quest'ultimo dettaglio si può anche scegliere quanto è il delay tra le due pressioni. Quindi sarà possibile scegliere se considerare le due pressioni quando premute ad esempio a 100 mille secondi di distanza l'una dall'altra, 200, 300 e valori di questo tipo. Inoltre è possibile impostare anche delle azioni quando si premono due tasti contemporaneamente, un po' come già accade per le super. E onestamente sarò molto curioso di provare questa nuova possibilità di personalizzazione, alla ricerca magari di una mappatura un po' più comoda. L'unico limite è che non tutte le azioni possono essere concatenate in un determinato modo. Ad esempio hanno detto che se premendo un tasto si effettua un attacco corpo corpo e tenendo premuto quel tasto si effettua un'altra azione, quest'ultima non avverrà mai perché appena si preme un tasto si effettua appunto il corpo corpo. Quindi diciamo che bisognerà anche capire quali saranno gli eventuali limiti. Da quello che hanno detto però le situazioni come quella appena descritta dovrebbero essere davvero poche. E in ogni caso ragazzi con quest'ultimo punto terminano anche le novità che avevo da riportarvi. Come al solito vi ringrazio per la vostra attenzione, spero il video sia stato di vostro interesse e vostro gradimento e noi ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi!